Riparte a Sassari la stagione lirica. Stamattina a Palazzo Ducale la presentazione del cartellone 2021 alla presenza istituzionale del sindaco Campus e del neoassessore alla cultura Nicola Lucchi. Cinque i titoli in programma al Teatro Comunale dall'8 ottobre al 5 dicembre e due le opere trainanti, Madame Butterfly al debutto questo venerdì anche in diretta tv prodotta da l'ente concerti Maria Elisa De Carolis e la vedova Lega che chiuderà la Kermesse. L'istintivo è proprio il tentativo di riprendere le vecchie abitudini con titoli che non siano atti unici, orchestra ridotta, ma con coro, orchestra grossa, anche se le limitazioni ancora un pochino ci sono. Restrizioni dovute alla pandemia che per ora limitano fortemente la capienza degli spettatori in attesa del cambio di rotta governativo. Un giro rivolta che potrebbe avvenire con gli altri lavori previsti dal rossiniano turco in Italia al dittico composto dal telefono di Giancarlo Menotti e dalla serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi. Intanto, accanto alla proposta culturale, si affiancano ipotesi e indirizzi d'azione sia sulla gestione del comunale, cattedrale dai costi eccessivi, come denunciato dal presidente del De Carolis e Antonello Mattone, che sul problema parcheggi. Su quest'ultimo punto il primo cittadino ha annunciato la possibilità di un aumento della disponibilità dei posti macchina nella zona del comunale, per la stagione lirica e non solo grazie a un accordo con la società Saba.